Quella delle barche fantasma è una migrazione pericolosa. A dirlo alla stampa è il procuratore d'Egrigento Luigi Patronaggio. Negli ultimi mesi si parla di questi sbarchi fantasma, barconi con migranti, quasi sempre tunisini, che arrivano direttamente sulle spiagge dell'Egrigentino e su quelle di Lampedusa e Linosa. La procura d'Egrigento ha aperto già diverse inchieste per capire come queste piccole imbarcazioni possano arrivare direttamente alle nostre coste e come poi questi migranti possano far perdere le proprie tracce. Sarebbero circa 5.000 i nuovi arrivi di questi 2.100 migranti sbarcati direttamente sulle coste agrigentine. Tanti purtroppo sono quelli di cui si sono perse le tracce. Ma non è la nuova rotta dei migranti al posto di quella libica, dice il procuratore Patronaggio al giornale La Stampa. Anzi, sembra di essere tornati indietro di 10-15 anni quando i migranti partivano dalle coste tunisine e venivano in Italia a cercare fortuna. Tunisini e magrebini non scappano dalle guerre o dalle persecuzioni, sono migranti economici. Ma per il procuratore Patronaggio i motivi per cui arrivano in Italia potrebbero non essere solo legati a bisogni economici. Tra loro, dice ancora Patronaggio alla Stampa, ci sono persone che non vogliono farsi identificare, gente già espulsa in passato dall'Italia o appena liberata con l'amnistia dalle carceri tunisine o magari che ha preso parte alle rivolte del 2011. Il procuratore non si sente di escludere che tra di loro potrebbero esserci anche persone legate al terrorismo internazionale. Per questo, dice, penso che siamo di fronte ad un'immigrazione pericolosa. Timori che sarebbero sorti, come un campanello d'allarme, dopo lo sbarco dello scorso 27 agosto. Sulle spiagge di Torre Salsa, infatti, è stata trovata una felpa nera con la scritta «Haters Paris, odiatori di Parigi» ed un'immagine della Torre Eiffel rovesciata. Il procuratore ritiene che vi sia la possibilità che ci siano dei basisti a terra e che dopo i misteriosi approdi riescono a portarli via e far perdere le tracce. Anche su come arrivano direttamente sulle coste dell'Agrigentino, il procuratore patronaggio ha qualche idea. Potrebbe anche esistere una insospettabile nave madre scambiata per un'imbarcazione impegnata nella pesca.